Ebbene si ragazzi miei ho fatto grandi grandi acquisti durante questo crollo Ragazzi prima di partire se avete piacere che io vi faccia un video molto dettagliato su una o più di queste aziende qua Raggiungiamo i 100 likes che entro domenica vi porto un video in cui vi spiego dettagliatamente il perché ho investito su queste aziende qua Ora possiamo continuare con il video Prima di iniziare però mi voglio scusare per il fatto che semplicemente sto portando molti meno video Ma io ogni sera praticamente sono qui su questo computer qua che lavoro insieme ad un amico per sviluppare un e-commerce dove vorremmo vendere analisi di aziende Quindi tenetevi pronti perché in futuro magari tra un mesetto o due uscirà appunto il mio sito Magari vi faccio un piccolo spoiler adesso Sarà un sito insieme ad un mio amico in cui venderemo appunto analisi di aziende Ma vi aggiornerò in futuro Questo qua è un piccolo spoiler ragazzi miei La prima azione che ho comprato durante questo corollo qua ragazzi miei è mio Per chi non lo sapesse io ho 23 azioni e come spesso ho detto voglio arrivare ad averne 25 Quindi la cosa che ho fatto è comprare un'azione esattamente in questo punto qua Intorno ai 35 io ho comprato la 24esima azione e personalmente penso di non entrare più a meno che Ma sinceramente non so se sperare che accada o no ma non so se eventualmente entrare nel caso in cui ritoccasse queste cifre qua Diciamo intorno ai 28 che secondo me potrebbe essere un supporto Però staremo a vedere semplicemente io ho deciso di acquistare intorno ai 35 perché sostanzialmente c'erano due supporti Uno era quello della media 200 periodi e l'altro era questo qua questo supporto qua Quindi ho deciso di comprare intorno ai 35 infatti vabbè ovviamente poi ha toccato i 31 Quindi non è che abbia proprio agito come supporto però sostanzialmente poi ha chiuso sopra Ha poi chiuso mi pare a 38 poi adesso mamma mia che candlestick pattern strano Però staremo a vedere nel caso in cui toccasse sotto i 30 probabilmente entrerei e mi comprari la 25esima azione Che sarebbe l'ultima L'altra azienda in cui sono entrato è una azienda di cui vi ho parlato negli scorsi video E della prima azienda su cui potenzialmente secondo me ci sono i presupposti per fare un potenziale 1000% Però ho fatto un video in cui ne parlo meglio L'altra azienda appunto è Splunk Sostanzialmente io ero entrato abbastanza non dico pesantemente però ero entrato intorno a questa cifra qua Intorno ai 145 e poi ho mediato abbastanza Adesso penso che il mio prezzo medio sia intorno ai 139 mi pare Una roba del genere quindi sto perdendo un pochino Però tendenzialmente voglio aspettare non sto più entrando perché voglio aspettare le prossime trimestrali Essendo che comunque è un titolo che non voglio avere all'intorno del mio portafoglio Con una percentuale molto alta ma è un'azienda che tendenzialmente vorrei che occupasse all'incirca l'1-2% del mio portafoglio Semplicemente una scommessa su cui secondo me c'è la possibilità di fare dei buoni profitti Ma in futuro Un'altra azienda che ragazzi più la guardo e più impazzisco e nel quale sono entrato è Peloton Ragazzi miei io sono entrato pesante intorno ai 120 Intorno ai 120 sono entrato pesante soprattutto su questo rimbalzo qua Su questa trend line che avevo tracciato Sono entrato pesantemente anche qua Ma sto accumulando anche su questo rimbalzo qua Sulla media 200 periodi perché a mio avviso è un'azienda che ragazzi miei spaventosa Nel caso in cui voleste un'analisi approfondita su questa azienda qua Fatemelo sapere magari raggiungiamo i 100 likes che magari nel prossimo video magari vi parlo appunto Nello specifico di questa azienda qua Comunque come vi dicevo sta continuando a rimbalzare sulla media 200 periodi Quindi potenzialmente a mio avviso è una grande possibilità di entrata ad un buon prezzo Perché attualmente il price to sales ratio di Peloton è abbastanza basso Perché considerate che attualmente ha un price to sales di 11 Che per un'azienda che cresce del 60% anno Potenzialmente per i prossimi 3-5 anni Non vi dico un affare Considerate che ovviamente ci sono i rischi legati all'azienda Infatti anche questa qua non voglio che superi il 2-3% del mio portafoglio Però è un'azienda su cui personalmente ho grande fiducia Quindi magari se come vi dicevo avete intenzione di sapere qualcosina in più Fatemelo sapere questo nei commenti che io ve lo porterò sicuramente È un'azienda che personalmente amo Quindi quando ho visto che è crollata Del Perché ragazzi miei dai massimi ha fatto praticamente un... È attualmente a meno 38% Meno 38% Però staremo a vedere ragazzi miei Un'altra azienda su cui sono entrato abbastanza pesantemente è Pinduoduo Però personalmente qua penso di aver fatto un errore Semplicemente perché avevo comprato senza vedere il grafico Qua ho fatto un errore Mi sono basato solamente sull'analisi fondamentale Quindi io personalmente consiglio sempre di fare un mix Basarvi sia sull'analisi fondamentale e sia sull'analisi tecnica Diciamo che guardando questo grafico qua non c'era nessun segnale per entrare A mio avviso è abbastanza... Non vi dico scontato però potrebbe tranquillamente raggiungere i 123 all'incerca Do le reperazioni quindi io personalmente sono entrato mi pare con un prezzo medio Intorno ai 160 Adesso sinceramente non mi ricordo più il mio prezzo medio Però è sicuramente più alto rispetto al prezzo attuale Anche del 15% mi pare Quindi a mio avviso non sto più entrando Però è un'azienda che personalmente mi fa abbastanza impazzire Attualmente è a meno 32% dai massimi Ma secondo me potrebbe tranquillamente ritracciare ancora e toccare e rimbalzare Come vi dicevo sulla media 200 periodi Quindi personalmente penso possa arrivare intorno ai 125 Quindi per entrare pesantemente aspetterò intorno a questo prezzo qua E a mio avviso potrebbe anche rimbalzare sulla trendline Ci sono tutti i presupposti Magari non qua Magari farà per dirvi un rimbalzino Magari farà così bam Poi andrà su E poi toccherà qua e andrà su Potrebbe Io adesso non sono un analista tecnico Però potrebbe succedere così Tra l'altro per chi non lo sapesse Pinduoduo molto brevemente Non è un video spiegazione Però è un e-commerce cinese Assurdo Anche qua se avete piacere di sapere qualcosina in più Magari ci faccio un video a riguardo Fatemelo solo sapere con un like e un commento Io sono molto propesso a fare dei video specifici Però se io devo fare un video magari di 8-10 minuti In cui vi parlo di un po' le aziende su cui sono entrato Non voglio perdere troppo tempo a spiegarvi su quali sono entrato L'ultima azienda di cui vi voglio parlare oggi è R.I. Technologies Visto che tendenzialmente io non sono per nulla esposto sul settore del solare Ho deciso di investire su questa azienda qua L'ho fatto ad un prezzo medio Mi pare intorno Cioè la mia prima posizione l'ho presa intorno ai 39 Quindi intorno a questa cifra qua Sto aspettando perché a mio avviso potrebbe rimbalzare qua Potrebbe anche tranquillamente tornare ai 29 Anche perché diciamo che ci sono tutti i presupposti Come vedete su questa trendline qua ci sono tutti i presupposti Che vada a rimbalzare intorno ai 29 A mio avviso è già un buon prezzo anche intorno a questi prezzi qua Però attualmente io ho preso 4 azioni Dovesse raggiungere 29 probabilmente ne prenderei altre 4 Almeno potrebbe potrei arrivare anche a 6 per arrivare ad avere 10 azioni E anche qua per chi non lo sapesse Racknell Technologies produce pannelli che hanno un meccanismo che trovo molto interessante Comunque tra l'altro vi consiglio di guardare il video di Davide Ravere dove ne parla Perché lo spiega molto bene Hanno in pratica creato delle strutture che permettono ai pannelli di seguire il sole Quindi avere una capacità di ricezione solare molto più alta Quindi sapete che io in casa mia ho i pannelli fotovoltaici E il problemone che hanno è che Ok sono rivolti verso est e barra nord Però nel momento in cui il sole tendenzialmente è a est Quindi quando sta per tramontare I pannelli fotovoltaici acquisiscono molta meno luce E di conseguenza quindi producono molta meno energia Detto questo anche se di questa tendenza qua volete un video un po' più specifico Fatemelo sapere che io ve lo porto molto volentieri Detto questo ragazzi miei spero che questo video qua vi sia piaciuto Lasciate un bel like, un commento E niente ragazzi ci richiamo al prossimo video